Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nel mio atelier. Siete pronti per cucire insieme? Bene! Allora, vi basterà solo la rivista Burda Easy e in collaborazione con Necky realizzeremo insieme durante il corso un pantalone. Quindi vi insegnerò come ottenere il cartamodello e come realizzare un pantalone in veramente pochissime ore. Quindi potremo personalizzare il pantalone perché ognuno potrà realizzare il suo pantalone preferito con elastico e mobilità e in questo caso abbiamo una lunghissima midi, un po' di piume sull'orlo e un tubi color. Quindi davanti un colore e dietro una fantasia. Ma non è finita qui, vogliamo personalizzarlo ancora? Un pantalancino in lana sconsese. Potete davvero personalizzarlo come volete. In questo caso io ho messo un dolce vita e un anfibio. Ma non è finita qui, potete anche veramente personalizzarlo così, con un maglancino e un pantalone pronti per le feste di Natale. E' super davascato e super scintillante. Ma non è finita qui. Possiamo anche realizzare una tuta perché può essere il cartamodello per realizzare il pantalone di una tuta. E in questo caso altrimenti semplicemente un pantalone in jersey senza procedura laterale. Ma non è finita qui, ho un'altra idea. Seguitemi. Sì, decisamente questa è la soluzione più calda e più comoda. Un pantalone in pile, caldissimo, con tasche. Super sportivo per stare in casa durante le feste, sempre con un tocco natalizio. Quindi siete pronti a cucire insieme? Vi aspetto. Ciao! 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 Grazie a tutti.